Buongiorno bimbi, oggi parliamo di un nuovo genere letterario, la filastrocca. Lo abbiamo già visto un pochino in prima e in seconda, ma quest'anno impariamo a capire com'è strutturato ma soprattutto che cos'è. Intanto vi lascio un breve video in cui mi sono divertita a leggervi proprio una filastrocca. Buona visione! Filastrocca sciocca, una scimmia tutta strisce, ha incontrato quattro bisce, con le code lisce-lisce. Ma la storia non finisce. Lì dormiva sul cuscino uno sciocco pesciolino. Poi si tuffa nel ruscello aggrappandosi a un ombrello. Splash! Fa la casa dentro a un guscio, scende giù e chiude l'uscio. Spam! La filastrocca è ora conclusa, spero che ve la siate goduta. Che cos'è la filastrocca? Allora, la filastrocca è una poesia. Una poesia che ha come scopo quello di divertire il lettore. Di solito si usa per giocare, per fare le conte e ha sempre le rime. Ora andiamo a leggere insieme il testo che, vedete, ho colorato con vari colori e diviso in determinati modi. andiamo con ordine. Allora, se fate caso, ci sono tre rettangoli gialli. Questi tre rettangoli sono le strofe della poesia, cioè gruppi diversi separati tra di loro, proprio come le strofe di una canzone. I versi non sono altro che le righe. Ogni riga della poesia si chiama verso. Quindi, per esempio, il primo verso è una scimmia tutta strisce. La prima strofa, invece, quindi il primo gruppo di versi è una scimmia tutta strisce ha incontrato quattro bisce, con le code lisce lisce. Ma la storia non finisce. Se avete fatto caso, tutti e quattro questi versi terminano con lo stesso gruppo di lettere isce. Questa si chiama rima baciata, ovvero quando le ultime parole di uno o più versi, che però sono consecutivi, quindi uno dietro l'altro, finiscono proprio allo stesso modo. Se io avessi detto una scimmia tutta strisce, ha incontrato quattro elefanti con le code lisce lisce, quindi avessi saltato un verso, strisce e lisce non sarebbe stata una rima baciata, ma avrebbe avuto un altro nome. Quindi la rima baciata è solo quando le parole finiscono con le stesse lettere, ma si trovano su due versi, uno di seguito all'altro. Andiamo avanti a leggere la seconda strofa. Lì dormiva sul cuscino uno sciocco pesciolino, poi si tuffa nel ruscello aggrappandosi a un ombrello, fa la casa dentro un guscio, scende giù e chiude l'uscio. Qui ci sono tre rime baciate, cuscino e pesciolino, ruscello e ombrello, cuscio e uscio. Abbiamo cambiato strofa perché cambia l'argomento di cui si sta parlando. La prima strofa riguardava la scimmia, la seconda strofa riguarda il pesciolino. Arriviamo infine all'ultima strofa che fa. La filastrocca è or conclusa, spero che ve la siate goduta. Vedete che qui qualcosa non torna perché conclusa non finisce come goduta. Però se io ascolto queste due parole, leggendo il testo, un pochino mi accorgo che si assomigliano. Cambia solo la S che diventa T. Allora, quando due parole di due versi consecutivi si assomigliano, hanno un suono simile. Non si parla di rima baciata ma di assonanza. Questo sempre ogni volta che due parole sembrano simili ma in realtà sono diverse. L'esercizio che vi chiedo di svolgere è una sorta di giochino. Vedete questa filastrocca? Ci sono alcune parti che non sono complete. Io vi chiedo di leggerla, di riscriverla sul quaderno e di inventarvi la rima che secondo voi ci sta meglio. Intanto, prima di leggervela, vi faccio notare che qui non ci sono le strofe, non c'è la divisione in strofe. Può capitare che una filastrocca non per forza sia suddivisa in strofe. Può anche essere strutturata con una strofa unica, come in questo caso. Ma intanto incomincio a leggervela. Filastrocca con la rima. Se stai sotto non sei in... Quando parli non stai zitto. Quel che è storto non è... Filastrocca per il bosco. Ci sono stato lo... Filastrocca per lo stagno. Se ci casco non mi... Per chi ama navigare. Per chi invece... Per Andrea e sua sorella. Per chi mangia una. Per gli alti alberi e la ginestra. Per gli alunni e la loro. Per il foglio che prima era bianco. Per il braccio che adesso è. Saluto quindi bambini e bambine. Posate le penne. Sian giunti alla... Buon divertimento bimbi. Inserite la rima che preferite. Non c'è bisogno di... Non c'è una risposta giusta e una sbagliata. Va bene? È proprio un gioco di fantasia. Ciao!